Cinque anni con passi da gigante ma serviva l'ultimo strappo per arrivare al traguardo. Il corridore in questione è la provincia Bat. L'obiettivo da raggiungere è quello di azzerare la presenza di Amianto nel territorio. Ambizione di non poco conto rilanciata in occasione del convegno ospitato nella sala consigliare della provincia dal titolo Amianto Zero. Per arrivarci a questo risultato la Bat mette a disposizione dei soggetti privati attraverso un bando pubblico altri 400 mila euro per interventi di bonifica che prevedano la rimozione di malufatti contenenti Amianto presenti sul territorio. Noi nel piano ambientale che fu approvato l'anno scorso abbiamo previsto un settore per le bonifiche quindi abbiamo avuto a disposizione delle somme che intendiamo dividere per quanto concerne i comuni che ci presenteranno dei progetti e quindi finanzieremo in parte questi progetti che riguardano la bonifica di alcuni siti comunali poi ovviamente pensiamo alla provincia quindi alcuni siti della provincia ma soprattutto incentivare i cittadini per quelli che sono piccoli interventi tipo le canne fumare delle tubazioni in amianto che vanno ovviamente sostituite quindi questo incentivo che consentirà loro di non gettare più questo abbandono indiscriminato di amianto che ci ha visto l'anno scorso protagonisti più volte con finanziamenti per bonificare dei suoli privati della provincia dove venivano lasciati come fossero discariche e ce l'ha aperto l'amianto. Nel corso del convegno che ha registrato la partecipazione di autorevoli relatori l'onorevole francesco paolo sisto vito felice uricchio del coordinamento della segreteria tecnica del piano regionale amianto e vito bruno dirigente del settore ambiente della provincia è stato illustrato il contenuto del bando e le spese che verranno sostenute oltre a quelle della bonifica anche quelle relative alle operazioni di trasporto conferimento e smaltimento presso un impianto autorizzato rispettando la normativa e sino ad un importo massimo di 5 mila euro con l'obiettivo amianto zero ha ricordato anche il presidente della provincia bat francesco ventola si chiude nel migliore dei modi il mandato di questa amministrazione grazie grazie